Piano regionale di sviluppo 2021-2025 Il dibattito in aula nella seduta di martedì 9 giugno Il presidente Eugenio Gianni per la Toscana serve una visione strategica per la ripresa La seduta del Consiglio regionale di martedì 8 giugno si è aperta con il dibattito sul piano regionale di sviluppo 2021-2025 Un documento che come dichiarato dal governatore Eugenio Gianni nella sua informativa all'aula Rappresenta la chiave per segnare le linee di ripartenza della regione entro settembre-ottobre Un piano che ha caratteristiche di integrazione con altri due piani strategici Il piano nazionale per la ripresa e la resilienza e l'informativa sui fondi comunitari Un progetto che si concentra su tre assi di transizione, assi ambientale, digitale e sociale È un atto molto importante che in ogni legislatura rappresenta un po' il piano strategico del governo della regione Quest'anno il piano regionale di sviluppo in realtà si inserisce, si interconnette con gli altri atti che sono al centro del dibattito Ovvero il piano per la ripresa e la resilienza, il cosiddetto piano che viene chiamato recovery plan Che si connette a quello che è chiaramente il piano nazionale approvato il 30 aprile E dall'altro ai fondi strutturali comunitari perché siamo al crucivia dei fondi strutturali previsti dal 2021 al 2027 Io ho presentato un piano fondato su una Toscana d'eccellenza, solidale e connessa Ovvero una Toscana che cerchi di valorizzare da un punto di vista culturale, economico, sociale Quelle che sono punte d'eccellenza riconosciute nel mondo Ma dall'altro cerchi di rendersi più connessa da un punto di vista delle infrastrutture ferroviarie, stradali Di grande collegamento nella direttrice est-ovest e nella direttrice nord-sud Valorizzando il corridoio tirrenico ma contemporaneamente modernizzando Penso all'attraversamento dell'alta velocità o all'aeroporto che è stato proprio ieri sollecitato Quello che rappresenta il modo per connettersi oltre Non solo sul piano fisico ma anche sul piano immateriale Perché le connessioni della banda larga e del collegamento di aree Che oggi hanno difficoltà a cogliere anche il segnale del telefono o dei social È un obiettivo perché lo vediamo quando si riesce a creare la connessione Lo smart working e lo stesso sistema delle imprese ne ricevono un grande vantaggio Però una Toscana solidale perché lo vediamo da un punto di vista del contrasto all'emergenza Covid È una Toscana che tende a dover investire su quello che noi riteniamo essere una priorità Il sistema sanitario con i nuovi ospedali, con le nuove case della salute, con la telemedicina Che ci aiuta a far fronte a quello che è l'esigenza primaria dei cittadini, la salute Si tratta di uno strumento fondamentale per quanto riguarda la programmazione dell'attività della Regione Toscana Nei prossimi anni Si parte da una valutazione e di un'analisi di quelli che sono i dati strutturali della Regione Quali sono le principali strategie prioritarie che vogliamo mettere in campo Come lavorare per individuare politiche e progetti sia generali che quelli di settore Per quanto riguarda l'uscita della Toscana dopo la pandemia E per il rilancio della sua attività, della sua economia, del sostegno ai territori e alle comunità sociali Utilizzando anche nuovi modelli di sviluppo rispetto a quelli passati All'insegna della parità tra territori e della parità tra i generi I punti che emergono da questo piano sono quelli ambientali Intendendo uno sviluppo sostenibile per quanto riguarda il futuro Sono quelli della coesione sociale Sono quelli dell'innovazione tecnologica Su tutti questi tre temi sono individuati 15 attività strategiche E circa 27 progetti che riguardano ogni territorio della Toscana Dovremo sempre andare di più ad affermare l'economia circolare Ad una sanità che anche seguendo le indicazioni venute dal Covid Vada a rafforzare la sua integrazione tra il sanitario ed il sociale Che valorizzi la sua rete ospedaliera Anche fatta dai piccoli ospedali Che hanno comunque mostrato una grande utilità in questa fase E poi l'innovazione tecnologica non soltanto applicata all'impresa Quindi alla produzione artigianale e industriale Ma anche alla pubblica amministrazione Il piano regionale di sviluppo è un'opportunità Una responsabilità per questo Consiglio Soprattutto dopo la pandemia Sappiamo benissimo che il mondo e la Toscana Hanno bisogno e hanno esigenze diverse rispetto a prima Purtroppo molti dei temi li abbiamo già letti nella scorsa legislatura E ancora non sono arrivati a compimento Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale Che sia volto allo sviluppo della Toscana Che unisca tutti i territori E che li renda tutti fruibili Se dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola Sappiamo benissimo che siamo rimasti indietro Sul piano della qualità dell'aria Sul piano dei rifiuti Sul piano energetico perché il PAI era già scaduto Quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare E pensiamo che serva un'accelerata Perché dovevano già essere pronte e votate Probabilmente l'anno scorso Adesso arriviamo alla rincorsa Ma sappiamo benissimo che tutto questo si rende fondamentale Per far ripartire la Toscana Creare posti di lavoro Tutelare ciò che abbiamo Cercare di aiutare i distretti Andare a pubblicizzare tutti i nostri territori A sanare il problema del digital divide Che ancora è fortissimo nella nostra regione Sappiamo benissimo che ci sono zone In cui la connessione è ancora assente Abbiamo una grande opportunità Che arriva anche dai fondi europei Ma dobbiamo essere pronti per poterli spendere Avendo una visione di futuro Non certo rimanendo ancora al passato Noi come Lega abbiamo fatto una serie di proposte Qualcuna il PD ce l'ha approvata Qualcuna ce l'ha bocciata Ma pensiamo che sia utile E lo chiediamo nuovamente a questa maggioranza Cercare di lavorare insieme Per portare risposte ai territori alla Toscana Perché da una grande opportunità Altrimenti questo piano potrebbe riverarsi Una programmazione sbagliata E che non risponde a tutti quei cittadini Che ovviamente nella pluralità delle loro idee politiche Si rivolgono a noi piuttosto che al PD Piuttosto che a altre forze politiche Il piano regionale per lo sviluppo Ci aspettavamo sinceramente Affrontasse i temi Entrando un po' più nello specifico Attraverso il PNRR arriveranno 750 miliardi Arriveranno tanti soldi La regione toscana si prefigge di impegnarli In tante belle opere Abbiamo sentito parlare Di garantire l'occupazione Di rilanciare un nuovo Green Deal Di avviare un percorso Che ci dovrebbe portare A centrare gli ambiziosi obiettivi Dell'agenda 2030 dell'ONU In termini di migliorie ambientali Ma poi nel dettaglio Non si affronta un tema concreto Ci sarebbe piaciuto sapere Come visto che il PNRR investe Oltre 50 miliardi a livello nazionale Nella digitalizzazione Ci sarebbe piaciuto sapere In Toscana cosa vogliamo fare Per superare il Digital Divide Non è accettabile È un qualcosa che fa male Che fa male al cuore dei cittadini toscani Pensare che oggi due bambini Che nascono in due parti diverse Della Toscana Uno che nasce in una grande città E uno che nasce in un comune collinare O montano Oggi non hanno le stesse opportunità Oggi nascono E nell'epoca della digitalizzazione Avranno due vite differenti Chi non nasce in zone coperte Dalla digitalizzazione Zone più evolute Da un punto di vista digitale Parte svantaggiato Parte svantaggiato per il percorso di studi Parte svantaggiato Per potersi collegare culturalmente col mondo Parte svantaggiato Per poter viaggiare Per poter crescere culturalmente E questo è qualcosa Di totalmente inaccettabile Ci sarebbe piaciuto leggere qualcosa di più Sulle infrastrutture Perché i 750 miliardi Che l'Europa fa arrivare in Italia Non sono un regalo 360 di quei miliardi Andranno restituiti Entro il 2058 Quindi o si investe in qualcosa Che in futuro porta Una monetizzazione in Toscana Qualcosa che porti monetizzazione Che porti interesse Che si riescano a capitalizzare questi soldi Oppure quello che oggi sembra un regalo Sembra un pacco regalo Potrebbe diventare un incubo La cosa più incredibile che emerge È che stiamo discutendo Un documento Che potrebbe essere stato scritto Cinque, dieci anni fa Si vede che è aggiornato Soltanto perché c'è il riferimento Alla pandemia Che ci ha colpito E ancora sta colpendo la Toscana Quello che è il rischio fondamentale Di questa legislatura È che con questi soldi Molti che arriveranno in Toscana Si vadano a finanziare Dei progetti vecchi E soprattutto si farà senza monitoraggio E senza degli indicatori Ci sono degli obiettivi da raggiungere Che come sempre sono generici Con delle modalità Che sono altrettanto generiche E tutto questo significa Che semplicemente Vedremo replicata sempre la stessa storia E vedremo anche magari Molti progetti Che fanno parte Sono appannaggio Di vecchie legislature O di realtà localistiche Che sono care magari Al consigliere o all'assessore di turno Realizzate senza una prospettiva Per il futuro E questo è molto grave Perché l'occasione Del Next Generation EU È molto importante E adesso ancora la Toscana Sta ragionando con vecchi modelli Con una vecchia struttura E soprattutto sta basando Tutto questo su cosa? Su un progetto Di una nuova pista aeroportuale Che ancora porta avanti Dopo molte bocciature Su autorizzazioni E continui ampliamenti di discariche Su sempre la continua gestione Del paesaggio e dell'ambiente La medesima da anni Che è ancora non fruttuosa Con gli stessi problemi Da affrontare Le stesse soluzioni E di nuovo probabilmente Gli stessi buchi nell'acqua Se ci fossero state Dei monitoraggi attenti Vedremo che a distanza Di continue legislature I risultati Non raggiunti Sono i medesimi E su questi Ci si è investito molti soldi Quindi quello che Secondo noi si prospetta È l'ennesimo fallimento Di politiche Che sono sempre Le stesse trite e ritrite E soprattutto Che non mettono L'attenzione sul territorio Sul benessere delle persone Grazie a tutti Grazie a tutti.